Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte nella Sicilia sud-orientale alle 23.57. La scossa, stando a quando si legge nel sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto magnitudo 3.3 sulla scala Richter, con ipocentro fissato a circa 6 km di profondità. Epicendro individuato esattamente sul versante meridionale dell'Etna, su Santa Maria di Licodia, alle pendici del vulcano. Il sisma è stato avvertito anche a oltre 25-30 km di distanza. Tremone e boati sono stati segnalati in numerose località del Catanese, specie come detto alle pendici dell'Etna. Numerose segnalazioni anche a Catania e Paternò. Tra i comuni prossimi all'epicentro, anche Biancavilla, Drano, Belpasso e così via. Il terremoto si è sentito levemente anche in provincia di Ragusa e Siracusa, ma senza conseguenze. Grazie a tutti.